e ciao ragazzi qui è sabbit e benvenuti in questo video speciale molto molto breve faccio i miei più sinceri auguri di una buona pasqua e serenità e raga questa sarà la prima pasqua che vivremo tutti così quindi un bacione grande dal vostro sabbit io vi voglio bene dal primo all'ultimo e di nuovo tanti auguri a voi e alle vostre famiglie e qua da sabbit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi